però ha delle ci sono dei modi tali per cui lui può mi diciamo sparire diciamo così ok maria allora shift in me non ha 9,9 per cento dei microbi dove cazzo si è che come chi ha i entro da te sì dove faccio io la lobby la chiamo franco il gioco ma quindi schifo il tutorial io ho schifato ma si è testuale il tutorial tranquilli non è non è giocabile l'ho schifato nel dubbio panculo si impara solo vivendo la strada è la migliore insegnante allora ok vi ho messo vi ho messo la password in questa stanza qui streaming ok allora allora ok stanza stream si certo hanno aggiunto una mappa nuova io non l'ho mai fatta però facciamo foresta new map anche nuove modalità lo sa usare anche ragazzi un nuovo mail character è occhio questo cambia tutto io mi sa che non cambia niente lascio così come ragazzi veramente impedita con discord non devi fare niente invite ti invito io che io non vedo le lobby multiplayer password è multiplayer dovreste vedere tipo la lobby franco la password è quella che ho messo lì ma dove su che server stai perché su europa non c'è neanche una server europe non c'è chi ha prova ad aggiungerli tu allora invitali tu esatto ok ok io avevo accettato no ragazzi la password non è gabbo 123 ah no no è perché è una storia un po particolare gabbo è stato hackerato tipo quattro volte nella sua storia le prime due volte sono arrivato in soccorso io e lui non era in italia era a londra in vacanza con la con la sua moglie che all'epoca era solo fidanzata e gli dissi che gamba dammi la password che ti aiuto gabbo 123 dico no dammi la password no no è questa la password e quindi lui è stato hackerato perché c'era gabbo 123 come password quindi in modo veramente molto semplice non serviva neanche un brute force attack cioè bastava un coglione che diceva qual è la password proviamo aspetta però gabbo con la g maiuscola minuscola 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 ah ho capito si si non c'era neanche il fattore senti che faccio create che era la lobby lobby name franco europa english ma perché ma l'hai creata tu da zero si non dovevo no vabbè li inviti da qua che ci ho dato tutte le impostazioni invito da qua che cosa facciamo entra tu qua dentro e poi li inviti tanto puoi invitarli ah ok si sei un po sovrappeso chi ha cosa è successo eh maniavole tst siete voi eh tst ah boh c'è un tst 5 ok no mi sa che non sono nervi che sono in due ok invito arrivato game ma deluxe nostra qua eccoci sono cristiano ronaldo io non ti ho mi sa non siamo amiche noi a me me dovreste avevamo e io poi c'ho no io non ho rob scorsate no aspetta ti aggiungo su steam ok arrivo vai allora steam dove cazzo sta steam eccolo qua ecchi c'è prova oh mi avete sentito in game ah si può cambiare aspetta un attimo mi hai metato all'amicizia si vabbè io ho messo l'unica sbucciana che c'è sta si come ti chiami aelita di semplice sarà dove sarà tra la la perché non la vedo grazie per le saba rega dopo vi ringrazio tutti dove è aelita la vedete rega prova aelita tv cioè se puoi cercarlo a mano aelita aspetta eccola l'ho accettato ottimo è un po risulta sì eccola siamo sì ancora siamo eccoci eccoci qua ok siamo in 5 di 6 ok eccomi io dovrei cambiare mezzo anche io sì certo c'è no due pg in crocia ah sì dovete mettere fate opzioni e mettete il push to talk ragazzi mi avete sentito qualcuno mi ha sentito no vado in game vado in game scusa no aspetta prova a parlare poi chat status vedo che si muove ma non ti sento mi senti io non ti sento mi si sente tu mi senti no non mi sento io no no non funziona ah sei in lobby non puoi testare ah no che cazzo vuol dire ma davvero no no aspetta ecco perché no è perché è deficiente sto coso non riesco a capire che tasso metto raga io ho messo la rotellina del mouse davvero grandiosa no per finta no per finta la 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 l'impotente non è che ce l'ho non mi sento ok ok perfetto ok mi senti mi sentite in game io ragazzi sento un unulato di fondo ma non sento nessuno vi vedo che vi si muove il coso mi sentite in game si io si tu mi senti ok perfetto ci siamo ok andiamo in game ma io non mi sento ragazzi mi dobbiamo mettere a piangere stasera no 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 Codo mi senti ti sento no ti sento ti sento tu andate eh grazie e me potevi rispondere ma dove cazzo stai a parla in game o su discord non capisco molto assoddisco in game non mi cagavi insomma che devo far star lì a chi a parlare con nessuno non capivo allora mutiamoci sul mutiamoci sul discord ma aspetta che l'elita è volata via come volata mi sentite mi sentite io non mi sento come no cioè vi sento perché ero mezzo smutato su discord ma non vi sento in game ma com'è possibile ma hai messo bene l'uscita è il pc da gaming non è mazzo gioco di merda tap eh sì patroia io sono impazzita sono impazzita ma voi in game non mi sentite prova a parla in game adesso io ti sento in game pronto si te sentiamo le sentiamo provate ora pronto l'ho fatto ce l'ho fatta mettete pronto dai il mostro ma anche l'elita ragazzi ragazzi scusate ma solo io non vedo robe mi puoi invitare chiari dov'è ti ti invito mi è saltata la connessione non so perché ci mutiamo su discord dai aspettate ditemi se mi si sente mi si sente si si sente si si sente si sente si sento vai ora però manca delu ci sono ci sono mi sento mi sento mettete pronti ok tolgo discord mi confermate devo dire è sempre semplice organizzare le partite in questa vabbè ci abbiamo messo anche poco tranquilla se ci fosse stata qualcun altro che conosco io avranno nessuno ma ti ricordi quella oddio no sono un po' di tutti vi ricordate quella volta con Mary rega mamma mia le risate non riusciva a respirare non riusciva a respirare ti giuro ma che è che so siamo tutti vicini allora escape or hunt potrebbe esserci un problema vabbè credo che sappiamo già chi è il killer chi è il killer questo forza si è l'elita penso dove sta no io sono qua forza io non ho mai giocato è totta allora è totta ti ho confuso con totta è un gran onore per me ah quindi non c'è totta qua c'è un problema però ragazzi eh sì e quindi è lei è lei e dove cazzo sta dio mio che infarto madonna ma che cazzo c'hai ma che cazzo perché mi fissate così perché mi fissate così che c'ho e sei er brasiliano er brasile oh chi è c'era qualcosa di dietro vabbè dobbiamo fare questo ragazzi eh che cazzo guidami messia come buono c'hai giocato è detto aspetta aspetta il 2021 ci ho giocato ma come il 2021 aspetta in teoria non dobbiamo fare bordello no perché lui ci sente lui è tipo cieco sì no è cieco ci vede molto male però ci sente quindi non dobbiamo fare casino ok e fino a qua ok ma dove cazzo dobbiamo andare però dobbiamo svolgere delle quest che sono tipo in giro per la mappa ma non dobbiamo andare alla macchina le quest erano sì le quest erano oltre alla macchina era di prima c'era prima la macchina eh c'era prima la macchina la devi tipo modificare cioè devi costruirla tipo e quindi dovrò ai pezzi in giro sì ok ho santo scasto in poche parole ho sentito qualcosa davanti mi sa sai non vorrei dire una strassata io non sento niente ragazzi sotto il lampione c'è una tonta che non sai cazzo chi è cosa c'è una tenda cioè c'era c'era una ruota andiamo a prendere la ruota la ruota ah ma è vero ho preso ho preso il copertone l'ho messo in tasca mi hai messo in tasca in copertone grazie cosa è cosa strano dove si ti compariva tipo una specie di cosa dietro niente era buggato facciamo l'intrigo niente niente non post cosa è ahhh 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 ahhhh ahhh 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 ... Chi è? Toh io! Ma le più... ... ... ... Lazio pera! è fortissimo aiuta ma che dinamica è non lo capisco dove sono gli altri aiuto basta mi prego ma perchè sempre a me mi fa prendere infarti è altissimo poi e quindi e mo che è e mo che so ma so rinata ma so rinata cazzo ma perchè so così bassa mi sono rincarnata in uno scarafaggio mi sono rincarnata in un criceto che cazzo è ma veramente sono topo ma che cazzo che storia è questa ma che mi sente son sorcio Rita ma che storia è mai questa ma perchè ma posso aiutarli ma fa che e come son sorcio ma perchè attaccava sempre me sta cazzo di totta come si spittisce porca troia ma dove saranno gli altri non mi sento tanto bene mi cazzo fai ancora essere viva tac porta senti che dove vado oh ma è un topo ma dove sono andati tutti dai ma come aiuto zi son sorcio ho visto una persona qui ma ma è buio non vedo niente questo mi faccio bene aiuto sono persa disegno della macchina uno ma che vita trista sei diventata un topo però sono persa posso sartare la macchina è qua che posso fa ma comunque è altissimo questo momento il bello dopo l'ora non può essere preso come insulto no scusatemi ma io cosa dovevo fare cosa dovevo fare perchè mi prendeva sempre cioè in qualche modo mi sarei potuta mi sarei potuta nascondere immagino ma tanto non gli fa niente al mosto se le squittisco nervi metti da un topo pronto? ma c'è la cosa del topo che parla guarda sono un topo parlante pronto? c'è nessuno? sento i passi sento i passi ma non vedo nessuno pronto? nervi? in silence si chiama il gioco raga sento solo rumori non sto capendo un cazzo non vedo più nessuno manco io drone non sto capendo un cazzo come si gioca mi ricorda un pochino venerdì 13 ciao Willy eh ma non trovo il mostro non trovo nessuno questo è il problema ciao Ezio ciao bello ma totta che sta a fare viva ah no è il mostro ha ammazzato per prima sta in fama si tra venerdì 13 è dead by daylight è vero ho le case con si come piotta creare una collina di ratti si l'obiettivo del gioco c'è nessuno? pronto oh dove sei? come dove sono? sono morto sei un topo anche tu si sono un topo ma sono davanti a Elita io ma come sei davanti a Elita? ma dove sei? ho visto il morto ma io pensavo che fossero tutti morti che fossi rimasto ma dov'è Delu? ma non lo so è rimasta solo totta non so che cazzo sta facendo Delu è vivo? ma non lo so Delu è vivo raga Delu è vivo ma tu dove stai? scusami io non ti vedo come facciamo a parlare? no siamo dai topi no siamo dai topi siamo nel ah ti vedo giati giati mi vedi? no io devo sapere se è Delux è vivo poco fa qui c'è qualcuno c'è qualcuno è Alita mi sa mi senti? è Alita? no lei non ci sente non ci sente è molto Delu era vivo non ci voglio credere ma era Delu questo? era Delu non ci voglio credere per me era morto ma perché mi avete squittito? siete venuti vicino a me siete dei ratti quando muori diventi un ratto mi avete squittito a fianco ma becca davvero se noi parliamo cioè tu mi stai dicendo che se noi parliamo da topi squittiamo si squittisce ma no ho squittito io come? Cristo Dio come con è? no ma bisogna no ma avete snicciato ragazzi mi avete snicciato Cristo prima non c'è spuglio come ha fatto a vedermi aspetta però ma quindi se finisca ma dov'è Elita? vinciamo? no no deve sai che non mi ricordo però Elita deve prendere la ruota che avevo io la ruota che ho messo sopra la casa e una terza ruota più le chiavi e sistemare la macchina addio non è fattibile sai ma io pensavo che letteralmente ero rimasto solamente io quando sono morto perché ho visto ho incontrato Elita e mi ha detto Deluxe è morto ah ok no non ero morto come un uomo è morto davanti a me ho detto perfetto no lo vedi in alto a destra lo vedi in alto a destra secondo amore e mi sai che è morta Elita mi sa che si no no ho usato il flashbang ho usato la flashbang ok aspetta squittisco no la fai spottata no 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 ero dietro di lui ero dietro di lui cioè di lei vabbè il mostro io sono rimasto sola di nuovo che balle sono dal mostro sono dal mostro ma pure io pure io ma io non vedo un cazzo non mi ti squittisco come un bastardo se ti guardi in basso ti vedi sì l'ho visto però non vedo niente perché è buio mi chiedono se per vincere bisogna aggiustare per forza la macchina esatto sì eh mi pare di sì e mi sa che possiamo anche ucciderlo sai se lo ricordo male se lo letto male non lo so come lo ammazzi eh ci sono tipo le armerie in mezzo alla mappa forse se non l'ho letto male e possiamo possiamo ammazzarlo forse eh però non sto male con che abbiamo fatto spottare per Cristo Dio eh ma non sapendo stavo smurfando avevo già messo il fuel più la ma la batteria della macchina chill 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 tanto dopo sei te palese oh giusto ci ari direttamente ma è fishball ma chi è fishball il killer dopo codo e cazzo faccio raga ma ma la pena riesco a far ratto guarda qua cioè mi sono persa pure amici miei ratti pure qui i ratti da amici mia in silence si chiama il gioco io ah sì vabbè vabbè era mollare lui mancano sei secondi mancano sei quattro secondi ma per fare sai che forse vinciamo eh sì eh no ha vinto lui lei ha vinto lui ha vinto lui ha vinto quindi non serve solo scappare ma devi per forza creare la macchina sì eh avevo già messo la batteria più il fuel però sai cosa ero con una ruota e un dicevi eh sì ero con una ruota e un cerpuglio dietro l'albero e Chiara ha avuto la brillante idea che quando muori diventi un ratto di squittire sotto al mio culo così mi ha trovato subito ma l'ha fatta anche a me l'ha fatta anche a me chi è stato lo stronzo mentre ero in casa scattire ma vi manda è qualcuno in casa io sì alla fine alla fine che cosa ho fatto potrei essere stata io ma io non ero manco vicino alla casa ma ho ammazzato per prima cioè ma è proprio inseguito dietro al culo ma perché una certa mi sono accorta penso di averti che era one shot one kill no e invece no è bella per i fuori e invece devo ammazzare un botto di volte e ogni volta che tra l'altro ogni volta che respawni vedi meno vedi meno per il futuro vedi meno ogni volta vedi peggio e quindi io ogni volta che respawnava lì insoccevo un botto di motion blur di robe che si sfattonava allora mi giravo per cercare qualcuno e ogni volta che cercavo qualcuno trovavo te ogni volta e te pareva ma che cazzo ma la sto sponchillando sì e vabbè è qui mettiamo pronto ripartiamo vediamo mi è morto bs a chi a te molto strano a me non risponde però bs non risponde però vedo la chat che va avanti con tutte le f comunque devo dire sto bs è sempre un pezzo avanti causa mai problemi no no molto bello molto bello con il programma vabbè che devo chiudere intanto che riavvi magari metti se mi date due secondi due secondi perché poi ti taglia la voce se volete vi racconto se volete vi racconto il mentre quanto è stato bello fare il mostro allora dovrebbe essere stato onestamente divertente sì pensavo peggio ti potremmo in classe anche se il fatto che non vivi cioè non vedi veramente nulla cioè vedi malissimo cioè vedi una persona solo quando ci stai ma scusami è random quindi il mostro non è che lo scegli eh questo non te lo so dire penso sia random non so però tu non hai scelto no 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 è casuale ma non penso neanche di poterlo scegliere io il killer eh no infatti lo facciamo fare al caso ragazzi eh sì ok ok ah no in realtà se premete sul teschio sopra il vostro nome potete togliere la spunta cioè però non so cosa vuol dire vuol dire che è una roulette red means yes quindi do you want to be a monster red means e quindi ah ok perfetto vabbè io metto io metto di no così non c'è il rischio che ricapito subito ah ci sta ci sta va bene vai ok vai buonasera rica ben arrivati stiamo giocando stiamo giocando a salve chi è salve no ragazzi lo sapevo lo sapevo è bello è bello è finita è finita allora cosa serve per la macchina subito non va più parlare allora serve la chiave la ruota la ruota è sicuro tre ruote e fuel e ma dove si trovano nella casa in giro in giro tipo sotto le tende nella casa non credo non ho visto ma non credo andiamo nel tendone regale tanto lui arriva qua adesso subito per cosa si 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 accende la torcia rega con la f grazie ma siete sicuri di quelli facciano benissimo con la torta se vede si è benissimo quindi vi consiglio di terra la segra pari parla di stacazzo di torcia mannaggia mutala è abbastanza piano così sento un cazzo è una sega però ma voi lo vedevate il mostro no cioè si no non succede quando arrivavi si ma in teoria ci vorremmo in teoria spargere se no 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 lo vedo lo vedo lo vedo davanti a noi è proprio dritto vorrei che guardo io là dove c'è quella luce all'interno l'ho visto lì ok quindi in teoria provando a destra vediamo se c'è una casa si c'è la luce qua seguiamo la luce se c'è qualcosa si ok ah as ag sì 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 Che è sta fratta? Che hai detto? Perché hai la fratta in testa? Ma perché no? Come hai fatto? Ragazze? Ma c'è un'essenzialità? Ragazze? Ma c'è un'essenzialità? C'è una puttana! Ragazze? È qui la festa? Ragazze? Ecco la... Mi sono persa tutti ragazzi! Ma poi non si vede in cazzo, cioè... C'è un'ignosta! Perché? C'è un'ignosta che si vede in cazzo? C'è un'ignosta che si vede in cazzo? che ne so sono di nuovo un topo mo li faccio spottar tutti topolino topoletto zoom pappa tappisciato sotto al letto zoom pappa ah ok simo quando non c'è scritto run devi stare ferma e che ne so rica non lo sapevo sono di nuovo qui da sola non ci posso credere davvero ellis falli sfamare tutti io non trovo nessuno raga meglio ma non li trovo sennò li impago tellu palesemente si è si è bendicato su di me che l'ho squittito prima donna che è un fortificio mi fa troppo paura era il mostro quando appare eh ha trovato qualcuno oh di là c'è sta una luce questa corre la luce accesa che cazzo va qui c'è c'è vedi tu che mi faccio snicciare nooo come no ma ragazzi ma in tancopi ed è l'ultima in insane ma come faccio grazie star grazie mille totta è morta ma e vabbè delu è fortissimo hai vita contro delu ma io effettivamente non so cosa si vede da vostro ma scusa ma mi ha ucciso solo una volta e sono morta subito no davvero solo una volta mi ha ucciso ma se sfiga ma gli hai fatto e sono morta subito mi hai sparaflesciato oddio che c'è qua madonna riga cioè ma chi è che è morto ecco davanti a me ecco davanti a me ecco davanti a Rita dove? dove siete? che palle ferma 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 ci non si io io porto via io porto via io porto via io mi sa che non ha funzionato ma raga come si squittisce? ma che cosa vedete? dove siete? con lei dove siete? che io non vedo un cazzo di nessuno io sono in una casa siamo dentro una casa sì siamo dentro una casa ho squittito ho squittito sul c***o di qualcuno no non dovremmo squittire qua vicino scusami via 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 dovremmo squittirlo per distrarlo se vuoi se vuoi farlo squittirlo per distrarlo ti vedo in c***o però eh raga che ride se posso saltare da dopo eh sì sì è bellissimo guarda oh sì ma comunque prendere tutto è impossibile cioè oh sai dove sono messi? eh ma infatti c'è capito ma io andavo in giro non trovo nulla raga ma poi ho visto un container che c'erano tipo dei simboli dove si potevano aprire oddio ma mi sei attuato qualcosa dai ah ma si può saltare ragazzi grazie Starops grazie mille la mappa che è in basso sì beh mondo vado ma scusatemi ma quando io parlo sul microfono anche se non ho il push to talk lui non può sentirmi o sì Jenny ci sono anche i link in chat guarda ci sono i moderatori che ti mandano i link adesso eh no no eh quando corro sì troppo sì ma dove siete raga eh dall'altra parte del mondo ma io mi sa mi sa che sento Delu qua in un'altra casa proprio in fondo che cosa vedi una casa eh sì allora in pratica poco fa non mi ero accorto c'erano le case spottate oh ho visto qualcuno con la torcia hai lita ah ma guarda qua ma ragazzi ma nelle case c'è il delirio che significa trappole perché c'è trappole c'è tutto ah io prima avevo acceso una radio eh hai visto dobbiamo andare sotto nelle case nelle case se no dobbiamo io non ci ho fatto completamente caso tra l'altra raga nelle case è stra difficile muoversi da mostro aspetta 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 eh immagino sì 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 ma io non sto capendo sta ah raga ha chillato qualcuno mi sa eh sì no l'ha chillato sta scappando c'è ragazzi pure se camminiamo in piedi spunta il mostro ma è fuori è qui è qui povera robbie piccola ti fa perire via in via dov'è ti quasi scherzi è lì da della survivor comunque sta arrivando è lì da sta arrivando oh mi è sfuggita no immaginate lui che si vede sto sorcio che gli cammina davanti adotta che se la fa sta robando un po' di coglione a Delos sta robando per cazzo a Delos vado state ditemi un po' sotto le sue palle a quel momento e dove si collocano le sue palle è accanto a una casa sì accanto a una casa avete sentito il mio scottire sì sta davanti a lui eccolo l'ho racciaccato sotto il suo culo dove va non riesco a disaperto è difficilissimo sì è gioco difficilissimo però se sei sincero è figo cioè non è non è fatto male no guarda guarda dio cristo è morta lì la presa eh sì è partita in quinta letteralmente aspetta vediamo no vabbè mi sono persa manca poco comunque abbiamo fatto due partite rega cioè veramente ti ciuccia un botto di tempo ah così è lì quale sanfuolo dai piccoletti ciao orca troia ciao rega ma quanto cazzo è una puttana è sparita ma si è messi in un angolo no ma si è nasconde bene si a scappare si io prima ero dall'ultima che ho beccato ma dove sono sopra non è vero che si può stare sopra la casa fake ragazzi è stare sopra la casa vabbè come sopra la casa è giocabile è ingiocabile ma come fa a stare sopra la casa cioè che ci vince ah non lo so solo lui cazzo affatto oh chi è? so io ok a dopolona 30 secondi non ti lascio sola bella dopolona è messa letteralmente in un angolo eccoci qua ma mia quanto sei buona no è morta ecco è rimasto solo l'arberello eh sì perfetto oddio mio tu fa se premi F la torcia da topo ti immagini sì 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 oh quindi oh ma che è? eccoci gameplay settings delu lo sta delu è desparato delu si moccatevi su discord vai delu sei troppo forte zio pera ma no vabbè ma è troppo forte il kill ragazzi sì ma secondo me sì cioè a parte che copre un bot lunghe distanze poi comunque devi giocare veramente strategico se sei surf per cercare di sopravvivere mi dicono di mettere il botto come c'è il mostro come botto non ha senso a questo punto mi sento 8 volte Nelby scusate scusate non mi fido del fatto che possa essere legit e che non sia vabbè ovviamente il pc poi ti vede cioè eh vabbè ovvio quindi mi tolgo sulla ok perfetto mi sa che c'è qualcuno il capo adesso totta è ademigame io che c'ho io dovresti chi è no chi è ma perché mi dà gameplay settings ah perché c'ho io sì 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 ma vabbè basta che fai start tanto lasci così oppure cambia mappa la prima roba è per la mappa che facciamo winterland dai io mi avevo l'inventario pieno e volevo mettere la ruota ma non riuscivo a farlo perché voglio l'inventario pieno eh anch'io prima avevo lo stesso problema e come faccio a toglierli perché G G e poi G per ripiazzare ok grande grazie easy che mi ha fatto a togliere la lobby togli sta la lobby del cazzo ma sono io io comunque è carino dai non è male nì dai ma aspettavo molto peggio sai è che va imparato un po' in realtà sì no ma appena capisci come come si fa per stare silenzioso poi non ti becca più il nastro vai io ci sono ho messo pronto mettete pronto andiamo in game? sì sì di punto ho messo a bella che prontata ciao belli ci sentiamo di là dai Roma ah eccolo dov'è ok sorcio tra 3 2 1 sta mappa non la conosco io survivor oddio ragazzi ragazzi chi c'è ok allora ragazzi a priori cerchiamo di prendere quanti più item possibili e poi estraiamo qua credo sia la strada un manco una comunque guidaci bisogna andare molto a culo dove sarebbe la macchina eh eh non mi hai trovato anche sorella ragazzi i corvi occhio chi è sto pato che ho Ktsuguno ma è uguale 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 a quella di prima o no a favore raga raga lo vedo lo vedo lo vedo occhio ah che cazzo ma che cazzo ah non la devo trollare sto giro eh amore Aelita died merda 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 che cazzo sta ogni volta che cammino normale mi sembra che si stia avvicinando una mia oh mi fa pieno infarto questo eh dico da cercare cose ma per mettere dove raga io non so giocare porca altana non lo so che io non sento più un cazzo questo gabbiano di merda che avete mandato cazzo ma zio treno io mi sto a far tutta sono lì povero gabbiano l'ho capito raga ma io sto oh saluto del metal come sto a fare la passeggiatina nel bosco zio pero chi è quello qualcuno ma è un pazzo maniago non puoi scappare lì qua non mi trovo non mi trovo non mi trovo mannaccia la puttana io zio 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 so scappata 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 cazzo sto ah torgo tu e me sta a far assali l'ansia Fortissimo il rumore Della cosa Quando cazzo sto Quando cazzo sto Ma gli altri Do stanno raga Kirkrow Take Por di take Sto arrivando Io mi butto Io mi butto Io mi butto Dio Vado un cazzo zio Vado un cazzo 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 Sopra è qui sopra lui è Davanti a me Ma che ferma Ha preso telo la scala chi cazzo me vede qua ma chi cazzo me vede qua eh lo so rica purtroppo è un po' scuro il gioco perchè se accendo la luce me vede sta andando all'armeria no io voglio vedere Delu che sta a fa è vero mi c'è ma se cazzo non mi vede perchè che ha detto che ha detto l'armi sta ferma sta ferma cazzo si non vede il mostro non vede sente la torcia la puoi accendere no che la torcia ti vede ma lo stiamo con la spada e l'armeria mi non provo annacce mi trova sicuro 100 raga me sente ma rimango qui che risolvo raga ma Delu no non ce la faccio sento qua vicino raga sta vicino come usare il sponso di fendapasseri il intero non trova la macchina faccio usare e anche i ratti te stanno a trovare mi sono nascosta come una pazza ah ok oh ma pensi di merda non squettite ma sono loro dove sei Arianna dove vado dove vado ah 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Eh lo so vai lo so Infatti Perdo comunque Guarda Devo fare Mostro Are you friendly? Guardate regà Io so Stesissima Con queste cose Se cammini stretta Non ti senti Puoi andare senza problemi Ok È andata in armeria? Voglio provare a prendere armi Ci arrivo nel 2025 Però Eh lo so Gianna Lo so Ah lo so Sara Infatti Tantasecondi Ah dobbiamo costruire L'elicottero Ciao Tra la cosa Oh perdiamo da umane E non da sorci C'ha ragione Fabri No Slade Ah ma va Ma va Ma va Ma dove cazzo eri? Ma perché scusa Non mi trovi Ma che cazzo devo fare? Non ho trovato ruoto Ho trovato solo le chiavi Più il fuel Ma quanto cose ti mancavano? Non lo so Non la macchina Ti fa ridi che si viene Senta Dove era la macchina Scusate Ma non si vedeva un cazzo Comunque C'era un elicottero C'era un elico Era l'elicottero Era l'elicottero Era l'elicottero Sì Era l'elicottero Da fare Non la macchina No Quindi niente Ci sono ruote Eh no C'era il fuel Infatti Cioè La mia partita è stata questa Ho trovato Subito Totta elita Distrutta L'ho trovato Codomo Che ho preso una volta Poi si è scomparso Nei radar Fine Mi è andato a giocare Un altro gioco Palestra Non c'era Delu Non l'ho mai E dico mai Visto Dove cazzo eri? Scomparso Scusate Eccomi Sta piangendo Scomparso Ma dove era? Ma perché lui ci sta a giocare Perché Se ti stai nascondere In realtà Non lo puoi vedere Se ti stai muovere Non ci puoi vedere Come dite? Va bene Però Cioè Ah comunque si raga Si vede Nello sfondo enorme L'elicottero Ci ho pensato adesso Che effettivamente Poteva essere quello Il Volete fare l'ultima? Come vuoi? Se ci Sì si Scusate Cuccioli No Rosa Scusate Neanche proprio L'ultimissima Non si non riesce a farla? Beh effettivamente Durà 15 minuti Perché dura parecchio Una partita Deve partire No è che non la riusciamo A finire prima È ancora il problema Eh sì Ma delle 11 Robro un po' Quando si fanno i giochi Con gli altri L'ultima deve essere annunciata Qua nessuno ha annunciato L'ultima Vabbè pure Questa è una manetta Ragazzi io sono molto in difficoltà No vabbè Easy Se volete Facciamo un altro giorno Vabbè Facciamo una cosa Mi dovete promettere Che rifacciamo